Odar, opera diocesana per l'assistenza religiosa, è l'ente della nostra diocesi di Belluno Felter che gestisce strutture ricettive, in particolare il villaggio San Paolo, a Cavalino Treporti e la Gregoriana D'Auronza di Cadore. Inclusione sociale, vacanze per tutti, questa la filosofia che guida da sempre l'attività dell'ente religioso Odar, uniti ad accoglienza e rispetto. Quello in corso è un periodo particolarmente intenso. Questo è un periodo molto intenso perché apriamo la stagione estiva che è già iniziata il 17 di questo mese al villaggio San Paolo e inizierà il 3 giugno alla Gregoriana. Che sia al mare con il villaggio San Paolo o in montagna presso la casa per ferie e la Gregoriana immersa nel cuore delle Donomiti, quella che gli ospiti possono vivere è una vacanza davvero speciale, impreziosita dalla presenza di tanti giovani che svolgono un servizio di volontariato. Circa 350 ragazzi ogni estate, ragazzi delle scuole superiori, raggiungono le strutture per prestare due settimane di servizio per quello che riguarda l'accoglienza, l'animazione e il benvenuto ai nostri ospiti con piccole mansioni che servono proprio a farli sentire pienamente parte dell'esperienza di vacanza. Il volontariato nasce nelle strutture per accompagnare in particolare i nostri ospiti con disabilità ma non solo, anche le famiglie e i bambini. Per cui è una caratteristica proprio specifica della nostra esperienza e quella che ricercano anche gli ospiti per trascorrere una vacanza diversa dalle altre. Un'attività che è un'occasione di crescita personale e formativa per i tanti ragazzi e le ragazze bellunesi coinvolti, assistiti per questo anche dall'Associazione Amici dei Disabili e dei Minori. La formazione permette di crescere nella propria umanità e anche nella spiritualità ed è un'esperienza che davvero mi permetto di consigliare a tutti i nostri ragazzi delle superiori. Coinvolte naturalmente anche le persone adulte. Abbiamo anche disponibilità per l'esperienza per volontari adulti, quindi dal periodo dell'università lavorativo in su e accogliamo circa 60 persone che scelgono dedicare parte del proprio tempo di vacanza o libero durante l'estate proprio all'esperienza di volontariato.